Serie B, il campionato degli italiani Ambiente sempre più caldo a Pescara, non solo a livello meteorologico, dopo la sconfitta di Frosinone, nuove polemiche intorno alla società, all'allenatore Baroni, alla squadra, si pensa già alla prossima gara casalinga con il Modena, la società applicherà lo sconto per i distinti e per le curve, biglietto a un euro, ma anche questa decisione ha lasciato varie interpretazioni in una tifoseria che è sempre più lontana dalla propria squadra di calcio. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, l'allenatore Bruno Pace, buonasera Bruno, ben rivisto, pensate, Bruno Pace ha iniziato a fare l'allenatore con il Modena, che sarà il prossimo avversario del Pescara. Abbiamo vinto il campionato, è il primo colpo, l'unica volta che ho cercato. Il primo colpo è sempre il più importante. Grazie Bruno Pace, salutiamo e ritroviamo con piacere il direttore sportivo Giuseppe Tambone, buonasera Giuseppe, ben rivisto, abbiamo qui sulla destra questa sera Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, sta vivendo un momento di entusiasmo per il suo teramo, quindi un fatto storico, il traguardo è vicino e quindi tutti pronti per festeggiare. Qui alla mia sinistra vado a salutare Luca Pennese, buonasera Luca, ben ritrovato, e poi il nostro collega Paolo Renzetti che ha seguito il Pescara Frosinoni, buonasera Paolo. In regia andiamo a salutare Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, subito i numeri per interagire con noi e farci sapere cosa ne pensate della vicenda Baroni, della conferma ufficializzata insomma nelle ultime ore, 392-623-7060 per mandare gli sms oppure prenotatevi telefonicamente allo 085-93-0020. E' un lunedì di posticipo come sempre in campo Perugia e Varese, 0-0 il parziale dopo 32 minuti di gioco, si sta giocando anche in Lega Pro, è iniziata alle 20.45, Pisa-Spal sono sullo 0-0. Ricordiamo che domani c'è il recupero del derby tra Frosinone e Latina, ore 18, arbitra Fabri di Ravenna. Gara molto importante soprattutto per il Frosinone in ottica secondo posto, a te. Sì, così come è importante il posticipo di questa sera tra Perugia e Varese, anche se il risultato sembra già scontato, nonostante in B nessuna partita è scontata. Andiamo a salutare anche Valerio De Carolis dalla redazione di ForzaPescara.com, umore sempre più nero per i tifosi. E sì Enrico, buonasera a te, un saluto ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6, ai nostri utenti ForzaPescara.com, sì, non è un bel clima, soprattutto dopo le due sconfitte di Brescia e Frosinone. A dire la verità, i nostri tifosi sono stati sempre molto critici, un po' schierati contro questo allenatore, anche un po' contro la società e stanno continuando. Questi due risultati negativi sicuramente non hanno migliorato la situazione. Nel corso della trasmissione poi come sempre tu ci darai la linea per leggere gli umori dei nostri utenti. A te Enrico. Che succede Francesco? A proposito dei risultati scontati, io pure pensavo che Pescara-Brescia fosse un risultato scontato, perché ho chi confermo che il Brescia le deve vincere tutte per non retrocedere. E quindi ti ricordi che dissi l'altra settimana che retrocedessi, potevo pensare che il Pescara se lo taglia, volevo dire, faceva Karakiri da sola a perdere con il Brescia. Bruno, tu che vivi a Pescara, anche se la mattina sei impegnato vicino Pescara, perché la pesca ormai è la tua passione, uomo di mare, l'uomo di mare. No, per liberarmi dei miei nipoti, un po' di mia moglie, allora me ne vado al mare. Adesso sono cinque nipoti che ti massacrano, arriva la sera, sei distrutto. Adesso è il momento delle seppie, delle seppie. Se vogliamo fare un prenderì vi porto volentieri. Va bene, allora dicevo tu che vivi a Pescara, hai sentito tanti commenti dopo questa sconfitta di Frosinone, si è parlato di Baroni, le voci su Oddo, una tifoseria sempre più lontana però da questa squadra di calcio. Sì, beh questa è una squadra che ha sorpreso sempre in continuazione, perché nel momento in cui sembrava dovesse spiccare il volo, si è tarpata le ali. E quando invece stava per agonizzare ripartiva. E questo è perché forse alla base non c'è una linea precisa, insomma, di squadra, di gioco. Diciamo che questo è un gruppo più che una squadra, io non ho mai visto una squadra. Anche se ci sono giocatori, questa squadra è un gruppo di qualità anche, molti giocatori, perché sennò non potrebbe aver vinto sette partite fuori casa e aver avuto, non so se c'era ancora, il record dei gol segnati. Insomma, quindi... Ha il miglior attacco sempre il Pescara. Il miglior attacco. E quindi, allora io penso che questa squadra... 58 gol. Sì, ma lui stia parlando io, per favore. E allora, lei, quando verrà la sua trasmissione, le darò... Ehi, il serato! Va bene, va bene. Allora, quindi... Cioè, per questo motivo quindi la gente si sta allontanando allo stadio? Ma no, si sta allontanando allo stadio perché è delusa la gente, a un certo punto, allo zoccolo duro rimane, eccetera. Poi tutti gli altri che vanno a vedere non vengono perché, insomma, vedono che questa squadra non riesce nel momento decisivo ad avere la personalità. Perché questo? Questa squadra non decolla mai. Perché, mi dispiace dirlo, fino a un certo punto, mi dispiace, non decolla il suo tecnico, che a un certo punto, insomma, non si sa, è un po' troppo insicuro. Ha delle scelte, delle volte... E' facile parlare da fuori, io ho fatto anche questo lavoro, cervellotiche, eccetera. Però è uno che poi, secondo me, il lato che mi piace meno di questo signore, di questo ragazzo, di questo allenatore, lui sembra... è un falso modesto, secondo me. Io non l'ho mai sentito dire, ho sbagliato, è colpa mia, potevo fare meglio e tutto quanto. E' uno che ha solo certezze, insomma... La società ha rinnovato la fiducia al tecnico Baroni, può essere una scelta condivisibile sotto alcuni aspetti e non per altri. Io però penso, siccome, non lo so... Anche se a dir la verità, questa è una precisazione importante, secondo la società non è stato mai messo in discussione l'incontro. Ieri mattina è servito anche per richiamare e per sollecitare di più la squadra, perché anche la squadra deve prendersi le sue responsabilità. È stato difeso molto, sì, però, insomma, la squadra... La squadra a Sprassi ha fatto quello che doveva fare, ma lui... Quindi tu punti l'indice sull'allenatore? No, io penso questo, che non so se... non credo che sarà confermato. Io non lo so se vince tutte le partite e andiamo in Serie A, sono il primo a dirgli bravo e complimenti. Però avrei visto volentieri, anche se queste ultime sette partite, magari la scelta o di Oddo o di un altro giovane, eccetera, per vedere come andavano le cose, tanto non è che cambi molto. Quindi avresti rischiato questa soluzione. E invece Giuseppe, tu condividi questa scelta di andare avanti con Baroni fino a fine campionato? Credo che in questo momento la società o ha la possibilità di iniziare già a pensare al prossimo campionato e quindi magari inserire già in questo contesto... Cioè, dici questo perché non nutri molte speranze, perché sennò la classifica dice ancora che ci sono due punti per l'idea. Un eventuale avvicendamento avrebbe avuto senso nel momento in cui avevi la possibilità, magari avevi anche il traguardo che ti sfumava, avevi la possibilità di programmare con qualche settimana, anche queste sono settimane importanti per programmare il futuro. Questo non è successo perché la classifica dice che i playoff sono ancora lì e che quindi eventuali scossoni potrebbero pregiudicare un po' tutta la situazione. Credo che dal punto di vista aziendale sia stata una scelta saggia. In passato forse la società ha fatto delle scelte impulsive che poi ha un po' pagato, prima fra tutti credo l'anno scorso con Marino. Quest'anno hanno sposato un progetto e stanno cercando, finché matematica forse non darà torto, di sposarlo. È preoccupante però questo saliscendi della squadra. Dopo analizzeremo eventualmente, ognuno darà dei motivi a questo rendimento che non è sicuramente costante. Su questa invece decisione ti trovi d'accordo Francesco? Avresti agito in maniera diversa o no? Mi trovo d'accordo perché a questo punto del campionato, a sette giornate della fine, quando è che ne mancano, sinceramente sarebbe stato un azzardo perché sarebbe stato un gravissimo errore, un delitto calcistico dire cominciamo a programmare la prossima stagione. In parte ha ragione, Bruno quando dice prendo un allenatore, vedo se è in grado di allenare. Ma un conto, prima cosa è allenare sette partite, un conto è partire a giugno, costruire la squadra, fare la preparazione e sopportare tutto il peso di un'intera stagione. Quindi con tutto il rispetto per Oddo o per chiunque altro a posto suo. Punto a capo, a tre punti dai play-off non si può dire che la stagione è compromessa, pur in presenza di una squadra che di alti e bassi ha fatto il suo credo. Lui che stagione è compromessa, la stagione è al di sotto di quelle che sono le potenzialità. Perché è un dato di fatto. Io invece avrei fatto questo cambio anche per una questione, guardando al passato, quattro anni fa c'era Cucureddu sulla pancina del Pescara, cinque anni fa, che era completamente fuori da ogni logica calcistica, hanno avuto l'intuizione di mettere di Francesco, i risultati si sono visti. Io avrei dato una scossa perché è una squadra che non riesce a trasmettere, applicare quelle che sono le sue potenzialità. Io ho visto la partita dalla TV, a un certo punto mi stavo appisorando, perché un Pescara così amorfo, così succube dell'avversario, era difficile immaginare, con quei nomi, con quegli uomini, è una cosa che secondo me Baroni deve spiegare. Ecco, la società secondo voi è deciso così anche perché la squadra è dalla sua parte o anche per non bruciare eventualmente Oddo, sul quale si può puntare per il futuro? Paolo? Io vado un po' controcorrente e dico che probabilmente Baroni non è stato mai veramente in discussione dopo la sconfitta di Frosinone. Diciamo che era stata creata un po' anche un'atmosfera particolare perché qualcuno premeva la piazza. Già dalla settimana precedente. Sì, però si era creata questa atmosfera perché evidentemente così si voleva fare, però io credo che la società non abbia mai veramente messo in discussione né dopo la sconfitta col Brescia né dopo il K.O. col Frosinone, il tecnico. Seconda cosa, se Baroni doveva andare via, doveva andare via probabilmente dopo il 5-0 in casa col Carpi. E poi un'altra cosa, si vuole puntare l'anno prossimo su Oddo, benissimo, però è chiaro che ci sono ancora sette partite, c'è la matematica che non dà grandi, dà grandissime ancora possibilità al Pescara di arrivare ai play-off. E poi credo, insomma, anche per quanto riguarda la squadra, diciamo una cosa una volta per tutte perché io credo che il campionato abbia già detto questa cosa, questa è stata una squadra sopravvalutata, lo diciamo adesso perché i risultati lo hanno detto. Quindi ci sono delle responsabilità anche dei giocatori e credo che sia ora che i giocatori iniziassero sopravvalutati. Dopo ci torneremo su questo argomento perché... Allora, abbiamo al telefono proprio il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, perché molti pensavano che Afrosinone scattasse l'ultimatum, però sono sempre voci non dei diretti interessanti. E' vero che ognuno può dire la sua, il tifoso, il giornalista, poi alla fine è sempre la società a decidere. Quindi chiediamo conferma al presidente se c'è stata una timida idea di dare una scossa a questa squadra. Buonasera, presidente. Buonasera, Enrico. Buonasera a tutti. No, non c'è stato nessun tipo di tentativo perché a parte che il mister ha la fiducia della società, l'ha sempre avuto dall'inizio anche in momenti negativi di questo, soprattutto dal punto di vista del gioco. e quindi non avrebbe senso cambiare l'allenatore che comunque, seguito dalla squadra, lavora... e quindi non avrebbe senso. Certo che stiamo a parlare poi di... Ecco, la sentiamo a tratti, non so se lei sta in una zona dove il segnale non è dei migliori. Mi sentite? Adesso sì, adesso sì. E allora perché si è creato tutto questo tantama, addirittura sabato sera pure le testate nazionali davano quasi per scontato l'esonero, la riunione e la mattina successiva? Voi vi siete incontrati per capire soprattutto se l'allenatore è con la squadra e se l'allenatore vi dà ancora delle garanzie per questo finale di campionato? Ma noi ci siamo incontrati perché ogni qualvolta c'è stato un momento di difficoltà e l'abbiamo sempre fatto proprio per compattarci rispetto a tutto quello che succede all'esterno, solo per questo. Per il resto avevamo una grande tranquillità su chi avesse continuato a dirigere il Pescara e quindi non ce l'avamo neanche posti questo problema. Ecco, non so se Francesco dallo studio si vuole togliere quella domanda che avevi in mente, possiamo farla subito? Buonasera Presidente, ben risentito. Ciao Francesco, buonasera. Ciao caro. Si è mai pentito di non aver preso una decisione forte in una stagione che auguriamoci si possa concludere nel migliore dei modi, ma che è andata avanti tra alti e bassi, inspiegabili sotto certi aspetti. Diciamoci francamente, a Frosinone si può perdere, magari giocando forse un bocchettino meglio, ma non si può perdere in casa così come si è perso contro il Brescia. E quello della sconfitta con il Brescia... Ecco, intanto il Perugia in vantaggio sul Varese, mi diceva Andrea Costantini, questo è un risultato sulla carta. Perché quella partita lì è stato un segnale negativo? Ma io non sono, né io né gli altri miei compagni di avventura siamo assolutamente pentiti di quello che abbiamo fatto perché secondo me abbiamo preso un allenatore che stava lavorando molto bene con la squadra, consideriamo che l'abbiamo rifatto da capo, ma la cosa di cui probabilmente noi dobbiamo far tesoro è che con molta probabilità in questo campionato non si può prescindere dall'avere in campo tanta gente che ha voglia di emergere. Perché purtroppo il campionato ancora una volta, anche quest'anno, ha detto questo, ha detto che le squadre che stanno soffrendo di più sono quelle che sulla carta sono più attrezzate dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di quelli che sono i valori individuali e quelle che invece stanno facendo molto meglio sono quelle che hanno sempre sulla carta gente che magari è meno conosciuta o che ha più fame di mettersi in evidenza. Io penso che questa è la caratteristica della Serie B e d'altronde anche noi abbiamo avuto questo tipo di approccio nell'anno della promozione Serie A con una squadra che sicuramente non aveva dei grandissimi nomi, ma aveva tanta gente, giocatori bravi che avevano tanta fame di farsi vedere e di mettersi in mostra. Questo è il segreto a mio avviso, perché non c'è perché le squadre, ripeto, sempre sulla carta, perché poi sulla carta con le figurine non si va da nessuna parte, come amo dire io, ma sempre sulla carta, le squadre più attrezzate come organico sono tutte a soffrire, chi come noi è lì a due parti dei playoff, ci entra e ci riesce e chi addirittura è stato fino a due partite fa, addirittura nella zona piena retrocessione, chi come il Bari fa fatica ad avvicinarsi perché non dimentichiamo l'organico del Bari e altre ancora. Purtroppo la Serie B è... Quindi per il secondo anno consecutivo non è bastato una buona campagna acquisti che tutti quanti noi abbiamo apprezzato e giudicato in maniera positiva. Evidentemente serve gente che ha fame, gente che lotta, sì, abile tecnicamente ma soprattutto agonisticamente preparata a questo tipo di campionato. Io penso che noi non è che abbiamo giocatori che non lo siano, però sicuramente nella testa dei ragazzi a mio avviso in qualche momento è entrato qualche momento di rilassatezza perché non si possono prendere cose come il primo che abbiamo preso a Prosinone. Perché non è una situazione di questo tipo, ci sono persone che lasciano passare uno che nemmeno tanto corre per un anno. Ecco sul fiatto e poi la lasciamo, sul fatto che questa piazza continua a non aiutare, se vogliamo non so se ha ragione o meno, credo che il tifoso debba stare sempre vicino alla squadra comunque anche nei momenti più difficili. Ritiene che ci sia qualche motivo particolare, ad esempio anche questa scelta di portare il prezzo ad un biglietto non è stata condivisa da molti, insomma qualsiasi cosa si fa non va mai bene. C'è un motivo secondo lei? Ma è il motivo? Io penso che noi dobbiamo essere molto onesti tutti quanti e pensare che i nostri amici. Ecco adesso torniamo a non sentirla bene. Mi senti? Mi senti? Proviamo ancora, sì? Mi senti? Sì. Sì, si ascoltiamo. Noi tutti dobbiamo essere molto onesti, qualcuno si arrabbia quando dico queste cose, ma io amo dire sempre quello che penso e la verità soprattutto. Noi abbiamo un pubblico limitato, nel senso che abbiamo una tifoseria che è un numero abbastanza limitato rispetto alle grosse piazze, poi abbiamo una piazza che si scalda nei momenti particolarmente felici, però questo non basta purtroppo. Voi ti rappresento una cosa, l'Italia che ieri in casa era la terza ultima in classifica, quindi virtualmente retrocesso, allo stadio 19.400 tifosi. Di che cosa parliamo? Parliamo di altri numeri, Bari è una piazza che è importante, sulla quale è... Allora, c'era Luca Penese che aveva chiesto prima di intervenire, poi lasceremo il Presidente. Buonasera Presidente, io... Buonasera. Ti volevo chiedere, ma non c'è una grande amarezza nel non veder valorizzato e valorizzate le intuizioni della tua società? Io credo che in un organico come quello che avete costruito non meriti di essere a due punti dai play-off a sette giornate dalla fine. Non c'è una grandissima amarezza. E poi un'altra cosa, sette, sei anni fa circa avete deciso di mandare via Cucuretto e avete affidato la panchina ad un esordiente. Quell'intuizione si è rivelata, date la mano, vincente. Perché non l'avete riproposta? Ma perché sono situazioni diverse. Quando si è rilevata quella situazione vincente, e non lo dico perché c'è differenza tra i tecnici di cui parliamo, lo dico perché c'è differenza tra il tecnico che noi oggi abbiamo e il tecnico che avevamo a quell'epoca sulla panchina. Sono situazioni completamente diverse. Noi abbiamo un tecnico, non solo Massimo, ma anche altri che sono tecnici preparati, sono comunque giovani ed è giusto che facciano un'altra cosa. Io ho sempre pensato che noi dobbiamo farci quasi tutto in casa, quindi questo significa che c'è un tecnico. Così si può arrivare a vedere una cosa. Va bene, allora mi saprei capire che non so se in studio abbiamo capito la risposta. Voleva salutarla Bruno Pace, quindi Bruno che ha spesso criticato Baroni come un po' tutti. Buonasera Presidente, ciao Daniele. Volevo dire una cosa, non mi hai risposto che ce l'hai con me, no? Ah no, va bene. Non c'è più. Ah ci sei? Sì. No, volevo dire, ma quando il Pescara ha avuto quello scatto in avanti due mesi fa con il cambio di modulo e soprattutto secondo me, parlo da tecnico di una volta adesso, con l'innesto di Selasi, che fine ha fatto sto ragazzo che è l'unico centrocampista secondo me intelligente, tattico, che sa coprire. Brukman è bravissimo, ma insieme a i mucciai, poi succede come col Brescia che c'è il deserto assoluto e la difesa non è mai protetta. Bruno, io questa tua considerazione l'ho ascoltata anche ieri sera in un'altra cosa, però bisogna conoscere i fatti perché Selasi purtroppo ha avuto una varicella che si è portata presso quasi un mese. L'ha avuta dopo perché al posto di Selasi, scusa se ti interrogo, al posto di Selasi addirittura era stato prevenito Bruno che era appena arrivato da Frosinone. Selasi è quello che secondo me ha cambiato tutto perché oltre a contrastare è quello che in verticale dà il pallone a Melchiorri, a Maniero e tutto quanto. Mi è dispiaciuto di non vederlo più, per la squadra, non per me. Il ragazzo è sicuramente di grande valore e poi soprattutto di nostra proprietà, quindi immagina quanto dispiace a me non vedere Selasi in campo, ma come altri ragazzi giovani capiamo che sono molto… Sì, ma se è considerato Selasi per forza è un'alternativa a Brukman, potevano benissimo a giocare Selasi e Brukman. No, è un'alternativa più assoluto. Io concordo con te su questa cosa. Sarebbe stato meglio se sarebbe stato. Comunque. No, no, ma io sono d'accordo con te. E poi l'ultima cosa, e poi non parlo più per tutta la serata, voglio dire, quando mi dicono il caso di Oddo, ma non ha esperienza, ma che vuol dire l'esperienza? Se uno non deve iniziare, cosa c'entra l'esperienza? Quando ha iniziato Sacchi, quando ha iniziato Capello, non avevo l'esperienza. Ma io non ho detto questo. Ecco, capisci? Io sono per questo, perché con il nostro allenatore attuale c'è ormai un ostantio che non può essere. Nel caso nostro, non abbiamo coraggio, perché... Allora, vediamo qui perché c'è un problema sulla linea, mi dicono dalla regia. Comunque, fino all'ultima domanda abbiamo capito il resto. C'è una ragione che la varicella, bisogna prenderla da piccoli. Presidente, la ringraziamo per questo intervento. Ci auguriamo che contro il Modena si possa tornare alla vittoria. Grazie ancora. Lo auguriamo tutti. Grazie. Allora, ringraziare il Presidente Sebastiano. Prima di tornare in regia, Andrea Costantini, il gol del Perugia? Sì, lo ha segnato Goldaniga sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Goldaniga è un difensore, ha segnato sotto porta, deviando una torre di un compagno di squadra. Botta di prima intenzione sopra la traversa. Ora siamo all'intervallo. Poco fa, un minuto fa, anche la Spal, in Lega Pro si è portata in vantaggio sul campo del Pisa. Quindi Perugia-Varese 1-0, Pisa-Spal 0-1. A te. Bene, Andrea, ti ringraziamo. Prima di tornare in studio con i nostri ospiti, primo blocco pubblicitario tra poco. Allora, entriamo in studio dopo il collegamento con il Presidente Sebastiano. Insomma, questa squadra, Giuseppe, come si può svegliare e dove si deve intervenire per risolvere i problemi che sono oggettivamente sotto gli occhi di tutti? Credo che innanzitutto il Pescara sconti sia un deficit dal punto di vista della personalità e sia soprattutto una scarsa attitudine per molti di questi ragazzi nel lottare per qualcosa di importante. È vero, è una squadra dai grossi valori tecnici, una squadra che tranquillamente era tra le prime 4-5 di questo campionato e vedendoli giocare viene la conferma di questo. Però poi tra l'essere individualità ed essere squadra c'è di mezzo tutto un lavoro che parte spetta al tecnico e parte spetta ai calciatori. Io credo che, augurandoci che il Pescara riesca a centrare questo obiettivo dei play-off, perché comunque ha pochi punti e ha tutte le possibilità per farlo, si rischia in questa stagione veramente con dei valori tecnici di questo campionato notevolmente abbassati, sia rispetto all'anno scorso che anche a due anni fa, di lasciare la mare in bocca ad un ambiente... Che possa diventare la stagione dei rimpianti, no? Ma il rischio grosso è questo, perché ripeto, io credo che la squadra abbia grossi valori, non è vero che è stata sopravvalutata e che purtroppo questo andamento altalenante dimostra che la squadra non ha un equilibrio, non ha delle caratteristiche fondamentali il Presidente parlava dei giocatori che hanno fame ma quello è un qualcosa anche a livello di... Non crede a questo tipo di discorso, giocatori che hanno fame Quello si dice quando si perde, ci vuole fame, invece no bisognava armonizzare queste qualità individuali con un gruppo che fa finalmente una squadra, invece così si è andata ancora avanti questo spiega perché due le vinci, due le perdi perché secondo come si sviluppa l'azione, ma non di squadra individuale, di persone così questo allenatore, e poi ripetiamo un'altra volta magari è bravissimo, diventerà bravo se gli dici aerobico, anaerobico, lui sa tutto la catena di destra e di sinistra, sa tutto di questo capito? Oppure un mediano alto, solo un mediano basso è alto del 90 ma non vuol dire questo sapere allenare lui non entra nella mente dei giocatori lui quando ho visto io quel fessacchiotto di come si chiama, il padovano il pasquato che lo ha mandato a quel paese uscendo dal campo quello però succede da diverse parti anche tra le squadre che vincono non lo faccio mai un titolare da quella volta tu punisci magari uno che ha qualità è un dato di fatto cioè questo che segno è dal tuo discorso? che non ha... è segno anche certe scelte sue all'improvviso metto questo, metto il pettinario però la squadra è tutta con lui metto Caprari ma è tutta con lui che ti dici? tu hai mai sentito uno che dice sono contro l'allenatore? no, la squadra è tutta con lui sì, tutta con lui quindi non credi alla versione che quest'allenatore ha rischiato anche di in altre occasioni di perdere la panchina ha avuto dei grandi personaggi non diciamo sempre i soliti Galeone Zeman ma ha avuto anche Tom Rosati tanti altri che entravano nel cuore della gente questo è il cuore della gente non sa neanche cos'è questo l'ho mai visto ridere io la voglia che uno sembra che io ce l'abbia con lui perché parlo così e sbaglio pure a parlare così però vi viene distinto non che non la voglio fare a Bruno ma secondo voi l'allenatore è importante non determinante occhio e non parliamo di personaggi è importante no? l'allenatore mi dite Baroni che cosa ha dato a questa squadra? questa è la domanda che io prego Bruno ditemi che cosa ha dato ordine 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 nel gioco difensivo certamente no perché gli svarioni di questa squadra poi mi si dice forse i difensori non sono all'altezza poi un altro se questa squadra è solo merito della squadra se non ci va è colpa dell'allenatore se ci va sarà anche merito dell'allenatore come non è merito dell'allenatore però io non se penso al valore quanto incide facciamo un raffronto facciamo un raffronto prendiamo i giocatori del Pescara e prendiamo i giocatori del Carpi tu dici ma sono è un rascorso che facciamo dall'inizio del campionato lo facciamo ho capito ma se lo facciamo all'inizio del campionato di che parliamo? di talenti no anche di promesse ci sono alcuni che fanno le promesse da anni tipo Caprari tipo Pasquato sono sempre promesse però c'è anche è quello che volevo dire prima io quando parlavo di squadra che probabilmente è stata sopravvalutata perché ci sono giocatori che ogni anno si dice che potranno essere i giocatori decisivi non lo so però non credo che Pasquato e Caprari non riescano ad incidere ma ti posso fare anche qualche altro nome Pucino Tesoli io parlo di talenti lo stesso Zubari allora perché questi qua non sono cresciuti perché doveva crescere prima l'allenatore bisognava per esempio gli sfogliatori di Frosinone c'era il direttore sportivo del Frosinone che quando vedeva le sostituzioni diceva Giannino diceva mannaggia adesso entra Pasquato adesso entra non so nomi importanti però alla fine allora io auguro a Pasquato di arrivare a essere titolare nel Real Madrid o nel Barcellona nemmeno in Italia ma chiedo scusa se Pasquato sono 4 o 5 anni che si parla di questo giocatore il Pasquato dicevo Pasquato per dirne altri quando a gennaio è stato preso Pasquato tutti quanti è entrato Brugman in campo se Pasquato sono 4 o 5 anni che si dice è l'erede del Piero è il nuovo fenomeno è questo è questo sta a Pescara poi è stato con la Venezia poi dove che sta e non esplode un motivo ci sarà quindi non è la responsabilità solo dell'allenatore per determinati giocatori ma qui e negli altri anni e negli altri anni io parlo per quello che ho visto qua quando ha fatto bene poi all'improvviso è stato tolto adesso non è che Selasi risolvi il problema di questa squadra Selasi ha dato un ottimo contributo finora però come dici tu Bruno se la squadra nel complesso dà il massimo anche il Selasi rende altrimenti Selasi non ci fa fare quella differenza sarà anche io credo nei numeri con Selasi la squadra ha fatto moltissimi risultati e andato via Selasi ha cominciato a perdere nel periodo nel periodo nel quale non ha cambiato ma non per Selasi per uno come Selasi se tu ogni settimana una volta giocano questi 11 poi la domenica dopo ne levi 3 e ne metti in altre 3 poi ne levi 4 e ne metti in altre 4 alla fine dei fatti oggettivi squalifichi infortuni così prendi pure la squalifica una cosa che contesto che rimprovero a Baroni è il fatto di non credere di continuare ed è stato così dall'inizio della stagione non credere nei giovani perché noi abbiamo dei giocatori in panchina tipo Abe Casis Torreira lo stesso non hanno mai giocato non siamo riusciti a vedere se questi sono giocatori all'altezza perché davanti hai dei nomi hai paura di gestire il gente più grande non fai una rosa così Selasi non si fa solo con il non fai una rosa così ampia ma se io ci risiamo sempre il solito discorso è ovvio che si fa il solito discorso ma se io sono costretto a far giocare perché gli è stato costretto come si chiama 10 volte che lo domanda ma no il terzino il ragazzo Vetturini 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 perché fu costretto questo gioca bene dove è scritto che non deve giocare la partita dopo Sampaglia 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 era giocare con la prima Aspera fermati una volta ripeto la domanda perché forse non sono stato chiaro gioca Vetturini perché ci mancavano quasi tutti i difensori in quel ruolo benissimo prego la cittadella non chiedi una rosa di 30 giocatori che arrivano non deve perché non confermarlo Giuseppe devo rispondere chi mi risponde Giuseppe ci provo il problema è che secondo me il Pescara ha allestito una rosa abbastanza ampia contando proprio di avere il valore aggiunto da questi ricambi continui che potevano proporsi in ogni ruolo è scetizio è tra caio lo stesso però lui ti dice se lo rendono facciamo completare Giuseppe però il problema che si è creato secondo me è stato è stato un altro nel senso che faccio l'esempio degli attaccanti io credo che il pacchetto avanzato che ha il Pescara Politano Pasquato Caprari Sansovini Melchiorri aveva anche Maniera a Pettinari che secondo me è uno degli attaccanti giovani più forti che girano in questo momento in serie B dopo Avenatti credo che sia uno di quei giocatori che l'anno scorso ha dimostrato di essere proprio il protoggio più si sottolineano questi valori e più emerge la carenza data da Pagoni con questo tipo di giocatori è chiaro che se ho 5-6 giocatori di questo livello io allenatore se facessi l'allenatore cercherei di sfruttarli al massimo possibile in numero ancora maggiore quindi non ci sarebbe spazio per i giorni qui invece il Pescara no non solo il discorso è qui qui invece il Pescara avendo cambiato il vestito perché il Pescara era partito con un disegno tattico di un altro tipo però ha provato in emergenza mettersi questo e è andato discretamente lo mantiene siamo siamo al al punto che un giocatore molto offensivo come Politano si sta sacrificando in un ruolo che non è suo perché secondo me è quello che anche se la stagione di Politano è da incorniciare perché è stato assolutamente però ecco per dire gioca Tizio gioca Caio è perché probabilmente quelle che erano le idee iniziali non si sono riusciti a materializzare se avevi fiducia di Selassi ti ritrovavi Bruno ti sei ritrovato Bruno cioè avevi Selassi hai preso Bruno è uscito Selassi e hai giocato Bruno quindi significa è Bruno dove il Fiuso è stirato va beh quello può giocare il persone che non conosce è entrato Bettinari dopo dieci minuti che era arrivato a Pescara e poi non ha più giocato allora che fa questo deve avere secondo me il finito dello spogliatorio perché ci sono delle gerarchie ma quelle sarebbe un grosso legno allora siccome appunto ma questa è una squadra con una personalità proprio perché non c'era il tecnico dai su io credo che il problema del Pescara quest'anno è vero che Giuseppe parlava dei tanti attaccanti e del pacchetto avanzato del Pescara che è di grandi qualità ma non a caso il Pescara è il miglior attacco il problema era e rimane la difesa e hanno segnato i pochi ma il problema a mio avviso era e rimane la difesa probabilmente sul mercato è stata cambiata totalmente è stata cambiata totalmente però il Pescara tanti gol prendeva l'anno scorso tanti gol prendeva due anni fa tanti gol prende quest'anno voglio dire sulla difesa probabilmente sono state fatte delle scelte che non dico non sono state indovinate ma che probabilmente non hanno reso quel che si pensava però quando sono arrivati Salamon Fornazieri però la squadra continua a prendere due gol a partita ma la squadra è brutto mano in mezzo ho capito ho capito Salamone dietro a fare il regista però i numeri dicono che Pescara incassa sistematicamente quasi due gol a partita hai ragione perché i numeri dicono questo però la difesa secondo me è lo specchio di un equilibrio che non si è trovato non solo in difesa è chiaro ci sono dei gol che hanno nome e cognome perché pensiamo al gol preso all'ultimo minuto a Spezia sono saltati in tre da soli o col Vicenza a Cocco con Puccino che è una cosa che non esiste in nessuna parte no no per dire quindi il problema quelli sono errori individuali sì errori individuali però è una fase difensiva derivano da una fase difensiva che non è solo dei quattro difensori che è di tutta la squadra che non riesce sono molto spesso uno contro uno al di là di quanto sono più alzati legate a cosa per riemergere perché i playoff sono lì ma il Pescara non c'è il problema le speranze sono legate come diceva il mister solo alle qualità degli individui che compongono questa rosa e invece però la preoccupazione nasce anche se andiamo a vedere quello che è successo l'anno scorso a Lanciano perché l'anno scorso a Lanciano nelle ultime dieci partite in una situazione analoga è franata l'aspettativa dei rossoneri e questo che crea secondo me anche una preoccupazione nell'ambiente bianca-azzurro nei tifosi i tifosi non credo che siano autolesionisti o pazzi che vedono i fantasmi credo che abbiano il timore di non vedere raggiunto un obiettivo l'ha portata in un contesto così mediocre come quello della serbia attuale è questo che crea l'armismo ha creato questa pressione prima di andare da Andrea Costantini apriamo e chiudiamo la parentesi perché la figuraccia rimediata per il fatto delle divise non è mai accaduto nella storia del Pescaro una società che non portava una seconda mutua in trasferta perché tocca la squadra che gioca in trasferta cambiare la divisa non sappiamo di chi sia la responsabilità però è una figuraccia che non si doveva fare e quindi se ci sarà un responsabile è giusto anche che si paghi perché si fanno tanti sacrifici i dirigenti fanno tanti sacrifici i tifosi per una caduta di stile di questo genere le partite si possono perdere si possono commettere tanti errori ma a figura di questo genere credo che a livello professionistico e anche a livello non professionistico non si debbano fare quello che sto per dire a modo di battuta per sdrammatizzare un po' come quando ho detto vedi che bisogna prendere la varicella da bambini da piccoli portare un borsone di più con 25 mani ma portare due mute è quasi scontato non penso che sia una cosa tanto tanto difficile l'unico anno in cui avevo la responsabilità di guidare il gruppo direttamente con il Napoli a Napoli noi ne portavamo tutte e tre io non dico tre ma al minimo due se ne portano tutte e tre un po' perché in serie B in serie C all'epoca non sapevi che cosa poteva succedere no no non è un disguido perché è un anno che il pescaro non porta due mute in trasferte ma si spera com'è è da quasi un anno che non si portano due mute in trasferte e adesso c'è stato questo incidente posso cercare di interpretare posso cercare di interpretare un po' queste dinamiche che vogliamo interpretare di solito no 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 di solito quindi un anno che si sbaglia di solito succede buona abitudine proprio per fermo restando che la divisa bianca o quella neutra si porta sempre su questo non ci piove però molto spesso durante la settimana si chiama l'altra squadra voi con che divisa cercate di giocare e ci si adatta all'avversario il problema in questo caso però si arriva l'arbitro che per ragioni televisive o per ragioni sue decide di non giocare con quelle divise tu devi essere pronto esatto lì poteva succedere anche un'altra cosa magari per evitare la figuraccia al Pescara una bianca al Frosinone no 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 la metteva al Frosinone si però come regolamento come regolamento come regolamento tocca al Pescara con lo stabilo boss verde come regolamento tocca al Pescara si 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 no perdi successo solo questa no no non è successo Andrea allora aperti chiusa parentesi un ripiego è un errore gravissimo che si per l'amore di tante volte Andrea spiegabile punto tanto se è un punto leggiamo qualche messaggio che è arrivato poi passiamo anche alle telefonate si allora guardiamo qualche messaggio poi possiamo andare con le telefonate il tempo tecnico poi di approntare intanto sempre una zero a Perugia si gioca da 16 minuti nella ripresa non sono d'accordo doveva prendere Oddo ha fatto bene a Viareggio invece Baroni la Team Cup ha perso nella prima giornata con il sassuolo di Francesco ma se va in Serie A non fa come il 2012 il 2013 è un po' confuso questo messaggio non solo confuso andiamo avanti Baroni ridicolo resta ancora attaccato alla panchina vergogna ancora è normale che adesso i tifosi puntano l'indice sull'allenatore non capisco non capisco perché farsi ancora del male ma cosa deve succedere per far cacciare quest'allenatore la società vuole i playoff o no siamo stufi comunque è sempre forza pescare colgo l'occasione Andrea per chiedere anche agli amici perché anche questo fatto che la società non vuole andare in Serie A questa è una barzelletta ed è un discorso da tifoso perché andare in Serie A comporta un incasso di milioni e milioni di euro con diritti televisivi qualcuno potrebbe dire sì ma dopo devi affrontare la Serie A senza fare le follie di due anni fa ma ti dà un respiro poi anche l'Aquilone a metà l'anno paracadute sì la Quilone andiamo avanti Andrea non sapevo dai forza Andrea distretta come la tua paricetta Allora vediamo il prossimo messaggio non solo non è stato esonerato ma neanche si è pensato di farlo perché tutto questo attaccamento a Baroni qualcuno vuole rispondere? Evidentemente hanno fiducia in Baroni non c'è altra spiegazione prego Andrea sì vediamo il prossimo buonasera sarei stato per l'esonero mesi fa Baroni non mi piace ma ora è inutile ora dobbiamo tenerlo fino alla fine sì può anche essere una scelta condivisibile quella di tenerlo però c'è anche la scossa quando si cambia sul tempo breve è una scossa sono stati presenti che ne sono venuto agli allenatori ai playoff addirittura no? eh punto il caso fu quello della regina con Bolchi se non ricordo male ancora? ok prossimo delle due luna o l'organico messo a disposizione dalla società è scarso o lo è l'allenatore comunque sempre una delusione per noi tifosi allora leggiamo l'ultimo poi andiamo da Valerio Ecarlis mi sa che l'effetto Sanzovini si è esaurito spero di no ma lo temo abbiamo bisogno ora di pettinare Caprani meritate questa maglia e forza Pescara allora molti sì questo discorso su Sanzovini perché all'inizio ha fatto subito meraviglia no? però non facciamo passare adesso Sanzovini come il capo rispiatore degli ultimi risultati no Luca? no assolutamente anche perché l'impegno e la benegazione che ci mette Sanzovini è da modello e da simono per tutti i compagni di squadra è negabile però che comunque ci può stare di avere un periodo di appannamento e lì l'allenatore è bravo dice ok Marco hai dato tantissimo in questo mese è stato determinante ci hai fatto vincere col Catani una partita meravigliosa però sediti 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 un attimo magari proviamo Pettinari che ha fisicità ha brillantezza ha potenzialità soprattutto che sta qui da anni forse deve dimostrare quello che vale come carattere mi piace uno che non si sa quello che fa il romano ancora entra dentro è indolente è un giocatore indolente però a proposito di Sanzovini sabato Melchiorri è squalificato quindi potremmo vedere no gioca Pettinari dico no potremmo vedere la coppia Sanzovini Pettinari perché è giusto dire che Sanzovini ha avuto una flessione nel rendimento e lo dicono i fatti però anche Melchiorri che fa un grandissimo lavoro è un giocatore che nelle ultime partite è apparso un po' appannato e non voglio tornare al gol clamoroso sbagliato alla spezia quindi è chiaro che un giocatore che tira la carretta per tutto il campionato era inimmaginato i nostri attaccanti sono stati poco sporchi hai letto quello che ha detto Baroni siamo stati poco sporchi in attacco buttatevi per terra ma non l'hai letto non l'hai letto l'avete letto tu devi andare ancora a cena con Baroni ti ricordi ma no ma Baroni a me dispiavi che io dopo esagero parlo troppo e poi quando torno a Calino sono ruoli diversi dico ma che cretino anche quando eri allenatore tutti criticavano no ma sembra che ci metta del livore capito allora questo mi scoccia un po' dopo mi scoccia perché al momento sono un istintivo dico quello che mi passa mi piacerebbe l'ho detto durante la sigla della trasmissione a Luca e a Pug che mi piacerebbe tanto andare a cena con Baroni perché c'ho 7-8 domande pochissime 7-8 e prima gli faccio la premessa gli dico mi dica a lei cosa devo fare per dimostrare che di calcio ne capisca abbastanza gli schemi con 11 contro 11 come fanno molti allenatori che 11 eppure è già nel mirino di qualche club di Serie A io auguro a Baroni di vincere lo scudetto nel campionato di Serie A italiano io gli auguro tutto il bene del andiamo da Valerio De Carolis da ForzaPescara.com Valerio un paio di messaggi poi pubblicità e poi telefonate ok allora ti leggo questi due messaggi una dice di Eddie65129 che dice le altre squadre fanno punti invece il Pescara e me è rimasto fermo la società può mettere anche i biglietti a un euro ma questa squadra se non fa punti non fa punti rende amaro il fine settimana alla tifoseria a proposito dell'argomento Sanzovine chi è che concordo pienamente con il pensiero di Bruno Pace leggo era riferito alla telefonata Nippon 1936 sì questo era riferito scusami Valerio ti ho tolto no no hai fatto benissimo ti leggo gli ultimi due Nuccio83 dice se Sanzovine avesse una punta di peso proprio in riferimento all'argomento che stavate affrontando avesse una punta di peso a fianco che lo esonerasse da compiti che non gli competono per caratteristiche fisiche renderebbe molto di più come Melchiorri d'altronde voglio andarvi a leggere un altro posto e scorro veloce non voglio far arrabbiare il buono Francesco si nervosisce ma non è che devi leggere quello sta scorrendo tutti così fate allora io vorrei ovviamente questo è riferito è un po' critico però è un pensiero molto intelligente Andrea Bastione dice io vorrei chiedere come mai da tre anni a questa parte i nostri ex trovano aria più salubre altrove rinascendo allenatori compresi a nuova vita ho sentito i vari Giacomelli e Ragusa parlare di clima ideale a Vicenza meno pressioni e pubblico vicino alla squadra una volta queste erano nostre caratteristiche un tempo chi giocava qui addirittura metteva case e attività ora siamo una piazza di passaggio che assicura un discreto stipendio e poche grane anche a chi non si impegna questo scarso attaccamento alla maglia è dovuto a dirigenti che non sanno coinvolgere quindi un senso di appartenenza o proprio l'aspetto tecnico che è diverso Bruno no Vicenza ad esempio per Giacomelli e Ragusa per altri allenatori che stanno in altre piazze lo stesso Marino che o Cosme a Trapani adesso il Vicenza ha fatto una serie straordinaria ma l'esempio di Vicenza perché molti giocatori qui non rendono da altre parti no Vicenza è anche tosto a Bergamo dove sono andati i 2000 spettatori a minacciare i giocatori se non avessero letto quindi non è la pressione dipende da come va quelle cose io credo che si debba pure finire con questa tra virgolette barzelletta della pressione a Pescara ma mi spiegate a Pescara qual è questa pressione che cosa che dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni non mi sembra che ci siano state rivoluzioni di popolo quindi la pressione però leggendo il pensiero del tifoso non sappiamo se è sotto l'aspetto tecnico che rendono di più o perché si trovano meglio dire che c'è tutta questa pressione a Pescara sulla squadra mi sembra esagerato credo che abbia ragione Paolo bisogna anche considerare però che nelle ultime stagioni il Pescara non è riuscito a mantenere ecco una una stabilità ma stabilità che fortunatamente ha portato anche a una stagione una vittoria del campionato forse insperata perché era una stagione di transizione e si è vinto quindi si è arrivati in Serie A impreparati è andata come è andata quella stagione torni giù l'anno scorso cerchi di ripartire subito quindi lasci stare un po' la programmazione per il tutto e subito e non ti riesci quindi ha ragione Luca Pellese quando dice si paga il dopo Zeman è chiaro no non è che si paga il dopo Zeman non voglio non voglio dire questo però ecco questo tipo di continuità porta magari all'useggetta giocatori che per il progetto che hai al momento ti devono essere utili e non riesci a mantenere anche quella Francesca velocemente uno non si può rivoluzionare ogni anno un organico due con giovani meno giovani ma non si può rivoluzionare due per quel poco che capisco io e che mi insegna la storia di tante squadre le squadre si costruiscono con tutti rispetto per i presidenti i dirigenti e tutti i resti si costruiscono insieme all'allenatore io non lo so se questa squadra è stata costruita quindi tu riconfermeresti Barone il prossimo anno in modo che c'è continuità che faccio io riconfermo Barone stai parlando di continuità si fa insieme all'allenatore se viene un altro allenatore ti chiede altri giocatori se viene un altro allenatore costruisci la squadra con l'allenatore cercando di poter confermare quelli bravi di quest'anno Luca e poi andiamo alle telefonate c'è una la controprova non perché voglio dirti voglio dirti contro però a Lanciano c'è una società che fa la squadra e c'è un allenatore che l'allena arriva dopo l'allenatore la società fa la squadra l'allenatore questi sono gli uomini allenati ma sono 3-4 anni che ci stanno sempre 7-8 giorni a Torino il nostro amico Max non credo che abbia inciso sulla formazione della squadra eppure facciamo gli scongiuri sta vincendo lo studente tu sei il capo operaio io ti do no sai perché questo? perché alcuni allenatori scorretti e ladri anni fa potrei fare anche dei nomi ma non voglio anni fa e sai che facevano? facevano la squadra mangiavano sugli acquisti in generale e poi si dimettevano dicendo non siamo contenti non sono contenti e andavano dall'altra parte perché ancora cominciava il campionato chiedo scusa forse mi sono esperanza senza forza mi sono esperanza quando io parlo che la squadra si costruisce insieme all'allenatore parlo di caratteristiche tecniche dei giocatori l'allenatore se a me mi dice io voglio Luca Pennese o voglio Paolo Renzetti io con l'allenatore costruisco la squadra con le caratteristiche poi la società se io gli ho chiesto che voglio è un lavoro d'equipe bravo un difensore centrale con determinate caratteristiche poi me ne prendo un altro e un pochettino di altro fammi chiarire il pensiero con Bruno dicevi anche si poteva giocare cambiare squadra anche giocando la Coppa Italia prima del campionato ti ricordi? anche facendo le partite di campionato si poteva cambiare squadra no 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 all'inizio prima ancora che iniziassi il campionato la stagione ufficiale figuriamoci quando poi si potevano cambiare le squadre anche a campionato in corsa ma voglio dire molti facevano operavano nei mesi di agosto e settembre prima mettiamo un paio di telefonate pronto TV6? pronto? buonasera buonasera con chi parliamo? buonasera sono Sergio dal Circo degli Operai buonasera signor Sergio immagino come state stasera tant'è che io qualche settimana fa ti dissi che avrei telefonato alla fine del campionato ma proprio non è impossibile guarda non ce la facciamo più insomma senti intanto buonasera a te e tutti i tuoi grandi ospiti grazie allora io questa sera guardi ho telefonato per vogliamo essere buoni questa sera guarda è la prima volta siamo sempre critici in poco attivi invece questa sera vogliamo essere buoni vogliamo dire due parole di incoraggiamento al mister Barone come lui è un po' timido quindi ha bisogno di essere incoraggiato noi gli vorremmo dire due baronini di incoraggiamento per andarsene via da Pescara lui deve fare una cosa associante tre cose deve fare facilissimo guarda per andare via non è che ci vuole chissà che cosa prima cosa deve prepararsi la valigia seconda cosa deve comunicare alla società da questo momento io non sono più l'allenatore del Pescara terzo mette in moto la macchina e sgomma non vuole tornare vuole partire non c'è mai sembra di capire che la pazienza è finita anche da parte vostra che l'avete sempre appoggiato no? sì sì ma noi all'inizio eravamo d'accordo eravamo contenti ma più che altro per quello che aveva fatto l'anno scorso a Lanciano mica perché noi non lo conoscevamo come allenatore però per quello che aveva fatto a Lanciano pensavamo che era un ottimo allenatore e quindi ci siamo fidati però purtroppo noi non siamo per quelli che dicono perdiamo una partita due partite e si manda via l'allenatore però quando un allenatore dimostra chiare totale palese manifesto incapacità non bisogna dare ultime spiagge ultima partita bisogna mandarlo via subito solo in questo caso bisogna cambiare l'allenatore e purtroppo Baroni è uno di questi poi non sono d'accordo non siamo d'accordo con il signor Di Francesco questa è la prima volta di Francesco non siamo d'accordo con te c'è sempre la prima volta in tutto no? accetto tutte le critiche sono anche le regole un allenatore può essere cambiato anche a sette giornate dalla fine di gara Di Francesco specialmente un allenatore come Baroni io lo cambierei anche durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'ultima partita di campionato addirittura sono mesi che dico che Baroni andava tolto e già prima ancora della clamorosa sconvitta in casa con il Carpi 5 a 0 che andavo dicendo che forse Baroni però adesso signor Sergio la società ha deciso così quindi lo so non pensiamo all'allenatore non pensiamo a quel giocatore pensiamo a tipare perché anche in questo stadio il tifo non c'è mi rendo conto che delusione si ma ci ha fatto non ci abbiamo più il fiato Enrico non abbiamo più il fiato per strillare non abbiamo più il fiato per tifare non ce l'hanno tolto completamente il fiato per parlare pur per parlare addirittura quindi io direi allora anche perché cambiando un allenatore adesso non è che deve venire un allenatore che chissà che cosa deve fare tanto oramai gli allenatori lo sappiamo tutti conoscono tutti i giocatori che in circolazione tutti ogni allenatore conosce tutto di tutti insomma non so se Bruno voleva risponderle volevo dire questo insomma un po' di esperienza adesso Baroni se vuole fare bene queste ultime sette partite deve elevare io non credo a sto fatto che lo spogliatore è tutto con Baroni deve elevare sette otto dieci giocatori e fare queste ultime partite con quindici sedici giocatori diciassette quelli di cui si fida di più e meglio elevare gli altri che devono parlare si allenano poi dopo con altri lui ha scelto un gruppo come del resto l'anno scorso ha lanciato ma gli altri sono rimasti 14-15 giocatori e sono quelli che si alternano perché chiaramente le scelte vanno fatte non si può gestire non si può gestire non si può gestire e sì Sergio intanto la salutiamo grazie per il contesto grazie scusa Sì Sì scusa volevo dire una cosa una volta c'era un grande presidente il signor Sipiglia non il commentatore che era pure un grande il nostro Sipiglia che era pure un grande presidente Sipiglia l'allenatore il presidente dell'Avellino Lui aveva come allenatore un certo Rino Marchesi che a quei tempi veniva considerato un fenomeno un astronaut un grandissimo allenatore lui mandò via Rino Marchesi e disse queste parole ho tolto l'allenatore Rino Marchesi perché lui è come un medico che non ti fa mai morire però non ti fa stare mai bene queste sono le parole di Sipiglia lo disse su Rino Marchesi grazie grazie ancora grazie è vero Bruno Marchesi disse così grazie Sergio grazie è un bravo medico che ti fa stare non ti fa stare bene ma ti tiene in vita così proprio come ha detto il signor Sergio allora un'altra telefonata e poi pubblicità pronto TV6 pronto buonasera con chi parliamo ciao Henry sono Mario buonasera Mario lasciamo perdere la figura da Pescara Wisp che abbiamo fatto a Fosinone per i calzettoni acquistati a Lupin 5 minuti prima della gara le maglie con numeri stambati lasciamo perdere queste cose tu sai il mio pensiero se non va via il vostro presidente il Pescara non farà mai niente scusami se ci ho fatto per la rima baciata ma voglio fare voglio fare voglio raccontare una cosa qualche sera fa proprio il giornalista Renzetti sulla vostra stessa intente su TV6 se non sbaglio stava parlando col direttore sportivo del Teramo e c'era un signore che qualche volta si è visto pure per i programmi del Pescara non lo so Arquilli Arcilli non lo so come si chiama Arquilla ieri sera allora la traduzione ieri sera sì vabbè io adesso io sono un malato del Pescara vengo a cercare sempre i canali di Pescara e di Dorni per seguire le notizie e mi sono fermato a sentire quell'intervista bene questo signore ha detto una causa sacrosanta al direttore sportivo di Giuseppe quando gli è stata fatta la domanda se fosse stato chiamato dal Pescara cosa avrebbe fatto questo signore gli ha detto guarda Di Giuseppe il tuo bene non andare a Pescara perché io so come lavori tu e so come lavorano a Pescara adesso Baroni ci avrà 100 milioni di colpe ma come ce l'aveva Marino come ce l'aveva Bucchi come ce l'aveva quello del Trapani come si chiama il compagno Cosmi come ce l'aveva Cosmi insomma ci dobbiamo mettere in mente che a Pescara abbiamo avuto 6 allenatori e 150 calciatori non possiamo stare sempre a dare la colpa a questi cristiani con tutto il rispetto di chi vuole criticare questo o quell'altro allenatore di chi vuole criticare questo o quell'altro giocatore ma io non ho mai sentito parlare criticare il vostro presidente dico il vostro perché questo non sarà mai il presidente della mia Pescara e le figure se facciamo quelle figure penso che non dipenda da Gabriele il magazziniere no? se andiamo a Frosinone giochiamo con le maglie del Lupin io quando ho visto quella squadra ho detto ma che è la Wisp qua? Allora Mami tanto sai benissimo che qui ognuno è libero di esprimere qualsiasi tipo di pensiero di critica però se poi andiamo ad analizzare il lavoro nella costruzione della squadra credo che un po' tutti all'inizio della stagione pensavamo che il Pescara affrontasse un campionato competitivo se una società poi può piacere non può piacere può essere antipatico il presidente o meno fa stare i bilanci in ordine cosa che a molti non interessa però nel calcio di oggi è predominante se allestisce una buona squadra poi le responsabilità dei risultati passano all'allenatore e ai giocatori è vero che allenatori che sono stati qui da altre parti hanno avuto buoni risultati ma questo è il calcio perché un allenatore bravo come Marino a Pescara può non trovarsi bene come è successo anche a Bruno Pace che è qui presente da altre parti può fallire se un presidente o il gruppo dirigenziale fa stare i bilanci in ordine vuoi per le cessioni dei giocatori e allestisce buone squadre credo che le critiche debbano essere limitate sotto il profilo tecnico per quanto riguarda la figuraccia delle maglie sono stato il primo a sottolinearlo lungi da me dare delle colpe al grande amico Gabriele che non ha responsabilità sotto questo aspetto e ripeto non so chi sia il responsabile toccherà alla società individuare di chi sono le colpe tutto qui era una mia precisazione poi ognuno ripeto è libero di esprimere qualsiasi tipo di pensiero non so se gli altri vogliono rispondere in studio Mario se hai qualcos'altro da aggiungere altrimenti possiamo salutarci no quello che volevo dire Henry la tua considerazione è che cosa andrà gli organici sono stati fatti tutto quello che vogliamo allora la colpa di chi è? ripeto sotto il profilo tecnico allenatore e squadra hanno responsabilità con percentuali diverse poi ognuno si fa un'idea se ha più responsabilità quel tipo di giocatore o quel tipo di allenatore ho capito ma se il presidente scusami se il presidente mi dice facciamo il progetto triennale e ogni anno cambia rosa della squadra che progetto è? questo è un altro tipo di discorso che riguarda anche l'andamento dei campionati precedenti perché se tu compri o acquisti un fior di giocatore e quel giocatore non ti rende sei costretto eventualmente a cambiarlo oppure ci sono delle esigenze di mercato e richieste di mercato che impongono delle varianti Enrico ne cambi uno ne cambi due non 35 ogni volta può darsi che questo sia anche un motivo per cui le cose non stanno andando per il verso giusto ecco già qui ci troviamo come punto di incontro ma adesso non conta il mio pensiero ci mancherebbe conta il vostro conta soprattutto l'inizio del campionato che giudizio aveva su questa rosa su questi acquisti Mario eri contento era soddisfatto era contento lei sì no ma mi puoi dare del tuo perché ci conosciamo allora diamo del tuo poi siamo siamo giovani con Magno ogni tanto in giro per Pescara che ho giocato a Poggio e lui vivi con te anche se ero scarso con scarsi risultati anche se era scarso ha detto ah giocavo sì sì no Mario quello che sta chiesto della proprietà del Poggio di questa campagna acquisti di questi direttori di queste cose e poi invece le cose non stanno andando del tutto come era previsto ma noi abbiamo una serie B tranquilla abbiamo per quello che sento dire io non c'entro niente abbiamo dei bilanci a posto abbiamo delle cose a posto cose molto importanti adesso oltre il valore tecnico delle squadre Mario dobbiamo salutarti perché siamo in forte ritardo grazie comunque grazie a voi ciao grazie allora andiamo in pubblicità e poi parliamo di questa partita con il Modena dove c'è il grande ex Bruno Pace che iniziò lì però se è arrivato hai vinto subito a tra poco un saluto a tutti un abbraccio agli ospiti che tanto li conosco uno a uno un abbraccio a tutti sono testimone anche io perché mi sono visto la partita insieme a Luca e quindi testimonio quello che lui è confermo quello che lui ha detto prima tant'è che infatti se Luca si ricorda io gli ho detto guarda che baroni non lo tolgono confermeranno lo confermeranno tranquillamente io credo che stasera voi abbiate toccato tra i tanti temi di cui avete parlato il problema cardine che poi non è solo un problema del Pescara il calcio italiano è sceso così in basso perché uno non arrivano i grossi campioni ma soprattutto perché le società di calcio italiane non hanno il coraggio di investire sui giovani e soprattutto di farli giocare è un reato avere Vitturini Torreira e Selassie e non farli giocare poi è chiaro che Glugman riduce dall'infortunio così pesante e oltretutto sabato se non sbaglio era anche influenzato non ne riesce a fare quel filtro al centrocampo tant'è che molti gol li abbiamo presi sulle ripartenti fatti da errori dei nostri centrocampisti quindi anche la difesa di conseguenza ne ha sofferto più spazio ai giovani no? assolutamente sì ma manca il coraggio come diceva anche Sacchi giustamente all'intervista l'altra sera e la seconda cosa visto che abbiamo le ultime sette partite io sono più che altro non so voi ma sono seriamente preoccupato per le partite che abbiamo in casa Modena Provercelli Perugia e Livorno sono preoccupato più di queste partite che le trasferte di Avellino Lanciano e Barese perché io credo che per andare in playoff dovremo fare 14 punti nelle prossime sette partite almeno un abbraccio a tutti e buona serata grazie Giuseppe vuole aggiungere qualcosa su questo fatto di giorni penso su questo dei giovani vado un po' a memoria però se scorriamo la formazione del Pescara vi fa dire abbiamo i 92 i 93 i 90 che stanno lì i 91 al massimo quindi non credo che sia cioè se il 23 24 in serie B è considerato un giocatore vecchio è bene la proiezione nei giovani però anche il 96 il 95 invece parla di freschezza più che di 91 92 lui si riferisce soprattutto ai più giovani eh sì più giovani cioè voglio dire credo che il Pescara sia comunque una squadra che ha un impronte una media anno forse tra le più basse della stagione allora penultima telefonata pronto TV6 pronto 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 Enrico buonasera sono Maurizio buonasera Maurizio prego buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti grazie intanto volevo dire che questo Mario che contesta Sebastiani poteva intervenire prima per parlare con il presidente adesso mi pare il solito anonimo che si nasconde dell'unic è anche vero che l'abbiamo chiamato dopo noi abbiamo dopo chiamato lo spazio per le telefonate quindi era proprio tecnicamente impossibile e questo non lo sapevo però questo Mario continua a criticare il nostro presidente non da oggi comunque volevo dire questa cosa volevo esprimere il mio disappunto sulla scelta di mettere il costo del biglietto ad un euro che fa il paio con gli omaggi in tribuna chifoso lo si è o no se no esiste Sky abbassare i gufi e i frequentatori a basso costo dell'Adriatico forza Pescara grazie Sebastiani di esistere grazie e buon lavoro grazie l'ultima telefonata mi dicono che non riusciamo a prendere la linea allora facciamo una cosa Andrea andiamo con qualche messaggio poi se riusciamo a rintracciare l'ultimo telespettatore che avevamo in prelutazione prego Andrea possiamo andare ecco qui madonna francese quando mi ferite beh sembrava più pensavi che eri francese ma comunque francese pure io pensavo fosse francese a riniti intanto il finale a Perugia 2 a 0 il secondo gol lo ha segnato Verre al 29esimo della ripresa allora vediamo subito la classifica giornata se tecnicamente è possibile adesso chiedo uno sforzo bravo Maurizio allora il Perugia quindi sale al quinto posto con 53 punti Lavellino scende al sesto posto con 52 punti poi Livorno 51 e Spezia 50 il Pescara resta ovviamente sempre a due punti dallo Spezia e a tre dal Livorno per quanto riguarda l'ingresso nei playoff altri messaggi Andrea sì mister Baroni non sa entusiasmare l'ambiente il Pescara non diverte i giocatori nel momento cruciale del campionato se la fanno addosso con queste premesse pensiamo a salvarci scrive Marco da incapace di non finisce il messaggio comunque si è firmato Marco vediamo il prossimo Barò Mopero Ardac Selasi l'aconico il prossimo nel 90% dei casi lo schema proposto dalla squadra è palla a Salamon nel lancio lungo nella speranza che uno degli attaccanti prenda palla e purtroppo una squadra che sa giocare è solo di rimessa nessuno vuole per forza la Serie A ma vedere almeno qualche giocata corale avanti Salamon sarà squalificato anche contro il Modena sì al posto di stare sempre a criticare venite allo stadio vi sta pure a pregare la società con i biglietti a un euro nello stadio ci si va allo stadio non per i giocatori non per la società ma per la nostra città insomma questa decisione di portare il biglietto a un euro è anche contestata dai veri tifosi perché dicono se ci venite veniteci sempre no? prego Andrea altri due e basta sì porca miseria un toscano come Sarri messo in discussione buona serata Tony messo in discussione da chi? eh infatti non non lo capiamo è arrivato è arrivato così volevo chiedere a Enrico come mai non vengono mai invitati i giocatori o l'allenatore del Pescara nella trasmissione credo che avere come ospite un giocatore a settimana riavvierebbe la squadra riavvicinerebbe suppongo la squadra la tifoseria non è questione di invitarli sono anni che i tesserati del Pescara non possono andare nei vari salotti televisivi ci mancherebbe che non ci sia disponibilità da parte nostra anzi sono d'accordo comunque che si rafforzerebbe un po' il rapporto tra tesserati e pubblico come no? si rafforzerebbe il rapporto con gli allenamenti a porta aperte il rapporto andiamo da Valerio De Carlis per gli ultimi due messaggi da forzapescara.com anche perché sta per iniziare Pescara-Moccia andando avanti così prego Valerio ti leggo magari ti leggo due post così vi do anche un bell'argomento di ricordo Gipsy dice mi sembra di rivivere il pre-partita di Pescara-Pistoiese 1978-79 quando allo stadio andavamo la possiamo vedere intanto questa perché il video vi diamo salute Valerio un attimo solo arrivo che ci riproviamo vediamo così non so se ci riusciamo adesso ci stacchiamo anche da te Valerio perché siamo proprio negli ultimissimi minuti non so se andrei pronto con la telefonata non siamo pronti questa sera peggio del Pescara va bene allora Bruno Pescara-Modera il Modera dicevamo prima hai un bel ricordo però sono cambiati davvero i tempi è la squadra che ha segnato meno gol in CDB però è anche la squadra che dopo il Carpi ha preso meno gol quindi l'attacco più scarso e la difesa quasi più forte che partita sarà? la partita sarà niente il Pescara non deve avere la fretta di andare a tutti i costi adesso dopo tutte queste pressioni queste cose deve giocare eccetera una qualità superiore secondo me insomma e anche se in casa fiducia insomma c'è e non c'è però insomma dobbiamo vincere basta vincere e basta diciamo delle banalità quando uno chiede un pronostico io mi lascio andare perché non so che dire insomma dipende chi giocherà meglio vincerà insomma Giuseppe in queste sette partite Baroni dove influirà di più sulla testa dei giocatori sulla tecnica sullo spogliatoio su cose ma credo che debba incidere possa incidere sulla testa dei giocatori perché in sette giornate non si riesce a sovvertire a creare quello che non si è creato oppure a inventarsi qualcosa che non è stato possibile inventarsi negli otto mesi precedenti quindi credo che debba riuscire a gestire un gruppo un gruppo che ripetiamo ha grosse potenzialità e che non deve mollare assolutamente perché veramente sarebbe un peccato capitale non riuscire a provarci fino alla fine Sì Francesco quello che ha detto però vorrei ricordare che un certo Ivo Iacone alla guida del Pescara disse a sei giornate della fine quando sembrava le vinciamo tutte e sei esatto tutto perso dobbiamo vincere non dobbiamo provare dobbiamo vincere le tutte e sei oh sarà stato un caso ma mi sembra che il Pescara poi fu promosso insieme ma c'è anche quel precedente che diceva Valerio De Carolis di Pescara Pistoiese qui risaliamo alla stagione 1900 78 79 78 79 vero Valerio eravamo bambini non credo di riuscirvelo a farvelo leggere perché insomma era questo un po' succedere quando tutto sembrava perso va bene allora Luca Pescara Modra così che partita prevedi è difficile prevederlo le assenze di Salomon dietro e di di Vecchio di Davanni metteranno Baroni davanti a delle scelte che potranno essere importanti io mi auguro ovviamente eccolo qui ce l'abbiamo fatta ve lo leggo mi sembra di rivivere il pre partita di Pescara Pistoiese 78 79 quando allo stadio andavamo ormai rassegnati a disputare un altro anno la serie B quel giorno successe l'incredibile il Monza perse con il Lecci in casa e noi vincemmo 3 a 0 con la Pistoiese chi c'era sicuramente ricorderà quella giornata che sia da auspicio con il Modena magari con i risultati di Spezia e Livorno appelliamoci anche a questo comunque di rivedere muovere quella rete e vedere Pescara tornare a vincere Paolo sì due cose un inciso prima sulla società io volevo rispondere a quel telespettatore che aveva chiamato la società può commettere gli errori ci mancherebbe però ricordiamo che questi dirigenti sono stati lasciati soli dall'imprenditoria pescarese-abruzzese perché ormai da qualche anno da un paio d'anni due anni e mezzo vanno avanti da soli il Presidente Sebastiani ha sempre detto che le porte della società sono aperte ma non mi sembra che ci sia la fila dinanzi alla società quindi da questo punto di vista io credo che bisogna dare fiducia alla società perché come dicevi tu il primo campionato il campionato più importante è quello dei bilanci e credo che la storia recente del Parma qualcosa insegni per quanto riguarda Pescara-Modena ricordiamo quello che è successo all'andata Pescara chiusa in otto dopo un arbitraggio davvero disdicevole quindi io credo che sportivamente parlando mi auguro che si possa vendicare quel sabato in fausto intanto sono stati resi noti anche i posticipi Avellino-Pescara domenica 3 maggio grazie a Luca Pennese a Paolo Renzetti a Giuseppe Tambone a Bruno Pascio e Francesco Di Francesco che rivedremo anche nelle trasmissioni di Lega Pro perché si sta coronando il sogno a termo ringrazio Andrea Costantini in regia Valerio De Carolis da ForzaPescara.com ringrazio ovviamente anche Maurizio D'Aguisto perdendo il filo e ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21 grazie per averci scelto grazie a tutti grazie a tutti serie B il campionato degli italiani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.